Ciao! Allora, vlog! E da un bel po' che non ne faccio uno, da un bel po' che non ne faccio uno e niente, insomma, ho pensato di raccontarvi un pochettino, insomma, come vanno le cose, i bimbi, visto che poi me lo chiedete sempre, siete davvero carinissime, mi chiedete, insomma, come stanno, mandate i saluti e quindi grazie, grazie per questo. Ah, quindi cominciamo da Lori, Jacob ha fatto un anno a dicembre, adesso cammina, a volte penso che il tempo sta davvero passando così velocemente e Joseph è ormai un ometto, ogni giorno dice qualche cosa che ci stupisce. E un'altra cosa che mi chiedete spesso, io l'ho detto in passato, io loro parlo in italiano e Joseph che parla, mi risponde quasi sempre in inglese, anzi adesso sta iniziando comunque a inserire qualche parola anche in italiano, però io gli parlo assolutamente in italiano o solamente in italiano perché credo che sia fondamentale, fondamentale. La cosa più importante che una mamma che viene, un genitore che viene da un'altra cultura è sicuramente la lingua, la cultura, quindi non l'avrei fatto in altro modo. Quelle poche volte, mi è capitato prima di avere bambini, mi è capitato prima di avere bambini di incontrare delle persone, dei bambini per metà italiani che non parlavano l'italiano e io dicevo come è possibile? E dentro di me ho sempre pensato non voglio essere, non voglio fare la stessa cosa perché poi gli neghi una cosa importantissima essendo per metà italiani che è comunque la possibilità di andare in Italia quando vogliono e la possibilità di comunicare che è la cosa più importante. Succede spesso che all'inizio con i bambini piccoli magari il bambino che inizia a parlare, che parla da poco, concentra la sua attenzione su una lingua che ovviamente in questo caso è l'inglese e poi con il tempo inizierà a sviluppare anche la parte parlata perché comprende, capisce quello che gli dico e poi quando sarà più grande, tra non molto, probabilmente inizierò con delle piccole lezioni di grammatica, lo so, dovrò fargliele io. Joseph, ancora Jacob no, però Joseph già sa che ragazze assolutamente no, è solamente la mamma, quindi non so quanti mesi durerà questa cosa o inizia a dirmi queste cose solamente per farmi contenta, no, come fanno, come facevo anch'io con i miei genitori, dici una cosa poi ne fai un'altra, però che vi devo dire, uno ci prova. Jacob, Jacob, ve l'ho detto cammina e ho smesso di allattarlo completamente, allatticchiavo un pochettino, però adesso ho smesso completamente anche perché ho fatto un blog post sul mio blog, sono contentissima perché ho ricevuto tantissimi commenti di ragazze e donne che mi hanno raccontato la loro esperienza e sono davvero contenta, grazie, grazie perché ci tenevo tantissimo a parlare dell'allattamento al seno, per me è una cosa importante, comunque se siete interessati a dare un'occhiata a quel post, lo trovate sul mio blog. E dato che ho smesso di allattare, adesso posso mettermi ufficialmente, mi sono messo ufficialmente a dieta. Io vi ricordate un po' di tempo fa, avevo fatto un vlog, tanto tempo fa, forse quando era nato Jacob, parlavo dell'allattamento e del fatto che io durante l'allattamento non ho perso un etto. Sapete, sapete che quando allatti in maniera esclusiva bruci 500 calorie al giorno, che dice 500 calorie al giorno? Per questo moltissime donne allattando perdono peso, non è il mio caso. Io ho amiche che hanno preso 20 e più chili e li hanno persi in una maniera così veloce allattando, non è il mio caso. Non solo mi sono preso i dolori al seno e i problemi delle prime settimane allattando, ho avuto dei dolori assurdi con entrambi, non solo questo, pur allattando in maniera esclusiva, senza biberon, sempre con il bimbo ogni 2-3 ore, soprattutto all'inizio, cioè non ho perso un etto, infatti ho detto guarda, anzi, io sono convinta che l'allattamento sia con Joseph che con Jacob, mi ha, mi ha, non mi ha assolutamente aiutata, anzi, non mi ha fatto perdere 100 grammi. Penso che sia sicuramente perché io avevo una fama assurda durante l'allattamento, una fame, che altro 500 calorie che bruciavo? Adesso ho finito e quindi posso davvero pensare un po' di più al mio corpo e cercare di tornare in forma. Durante l'allattamento non era assolutamente una delle cose più importanti, anzi, nella maniera più assoluta e credo che non debba esserlo, credo che la cosa principale è appunto stare bene, questa è la cosa fondamentale. Comunque, bando alle ciance, mi sono messa a dieta, ufficialmente a dieta. Sta funzionando pian pianino, però insomma non è facile, mi sogno il cibo la notte, credo che sia normale e che quando succede vuol dire che sei a dieta. Quando inizi a sognare il cibo, oppure a tweet, quando sono su Twitter, i tweet che mi vengono sono sempre in riferimento al cibo o foto di cibo, allora in quel caso uno capisce che sì, la dieta è ufficiale, sì. Mi sto facendo aiutare da un dietologo, ma ho preso questa decisione ultimamente. Ho preso questa decisione ultimamente perché credo che ormai tutti sappiamo quello che fa bene, quello che fa male. Quello di cui avevo di bisogno era il supporto, il supporto di una persona che mi seguisse e credo che è fondamentale, credo che è importante, soprattutto quando si devono perdere tanti chili. Io adesso non parlo di chi deve perdere 2-3 chili, perché quando sento qualcuno che porta una taglia 40 ed è a dieta, mi viene da strapparmi i capelli perché dico, non lo dire nemmeno, ma dai, abbia un po' di pietà. Quando ci sono tanti chili da perdere, credo che sia importante appunto avere un supporto. E l'ho capito quando ho toccato il fondo. Cosa intendo con toccare il fondo? Intendo che mi capitava di passare davanti una vetrina e vedere la mia immagine riflessa e non capire subito che ero io. Non so se vi è mai capitato. E ho iniziato semplicemente a non sentirmi a mio agio con me stessa. Ma lo ripeto, è una cosa che è successa davvero ultimamente, perché all'inizio la mia priorità era nutrire il mio figlio e sicuramente non era una cosa. Sì, lo vedevo, lo vedo, che sono in sovrappeso, ma non era la prima cosa che mi veniva in mente. Insomma, credo che sia assolutamente normale il fatto di aver avuto due gravidanze così vicina l'una all'altra. Io praticamente ho smesso di allattare e sono rimasta subito incinta. Quindi non ho avuto... Quando sono rimasta incinta di Jacob non avevo ancora perso i chili che avevo preso con Joseph. Quindi vi immaginate chili su chili avendo due gravidanze così vicine. Ho la grandissima fortuna di avere un uomo che durante la gravidanza con 20 chili in più non mi ha mai, mai, mai fatto sentire non bella. Anzi, anzi, quindi era... è una cosa proprio personale. Il non sentirsi a proprio agio, che non significa che... devo mettermi il perizoma e topless e non so come fare. Vado anche... vado anche in palestra, comunque ci andavo anche durante l'allattamento, vado in palestra anche perché per me essere più magra di 10 chili e non riuscire a farmi due chilometri di corsa senza morire non vale niente. Non significa essere in forma, non significa essere sana. E niente, il mio obiettivo è di perdere peso pian pianino, tornare come prima, non lo so, non lo so. So che... chi lo sa? Boh, non... sono davvero contenta al momento di perdere 100 grammi, 100 grammi, 100 grammi, pian pianino. E non... non ho obiettivi. Sì, ho degli obiettivi, ma principalmente non tanto di peso, perché soprattutto quando vai in palestra ovviamente il... no... i muscoli pesano più della... della ciccia, quindi... non tanto come peso, ma sicuramente come centimetri. Io non... non mi peso tantissimo e non... non sono mai comunque andata molto con... con i chili. Vi tornerà giornate, lo ripeto, io non... e non voglio nemmeno... quando mi è successo di perdere peso in passato, in maniera sana, l'ho fatto sempre in maniera molto... molto lenta, non credo nelle diete, tipo mangia un fagiolo a cena, no... no... no, ma io voglio mangiare. Ehm... e non credo nemmeno nelle... nelle diete che durano una vita. Questa è una dieta che sto facendo adesso, fino a quando raggiungerò, mi guarderò allo specchio e dirò... hm... però... hm... va bene per adesso. E... e poi, insomma, mangerò normalmente, che vuol dire anche mangiare schifezze, credo che sia una cosa normale e uno dei piaceri della vita. E quindi... quindi niente, vediamo quando... quando arriverà quel momento. Chissà quando arriverà. Ve lo farò sapere, non so, magari farò un photoshoot in... in bikini, su una spiaggia hawaiana. No, vabbè, no... Ehm... meglio di no. E tutto, un bacio! Ciao! No, vabbè, no... Grazie a tutti.